Ciao a tutti e benvenuti nella sede di R di San Zanonaviglio. Oggi siamo qui con il Pick-up A8. Ecco qui il Pick-up A8, il gigante della gamma di R. Con i suoi 5,31 metri di lunghezza e 1,81 di larghezza, è un pick-up da persa accessibile e che può rivelarsi utile per i nostri hobby, ma anche in ambito lavorativo, grazie al grande cassone che troviamo sul retro. Ma andiamo per ordine. Frontalmente notiamo subito il suo design molto muscoloso. Troviamo anche come di consueto la grande griglia accompagnata dal logo di R, che continua anche qui sotto dove c'è il portatarga, l'alloggio dei fari fendinebbia ed infine il gruppo ottico con fari a LED. Lateralmente si capisce che questo Pick-up può andare dappertutto. Guardate quanto è rialzato da terra. I cerchi da di sotto pollici diamantati sono molto belli e anche il passaruota allargato ci sta alla grande. Sotto lo specchietto notiamo la telecamera, che ci aiuterà nelle manovre più strette. E sotto le portiere c'è questa pedana, molto rifinita, che ci aiuta a salire nell'abitacolo. Concludiamo la vista laterale con il roll bar, che rende armonioso il design. Il posteriore ha uno stile funzionale e con pochi fronzoli. Dove troviamo i fari a LED, molto belli con questo design squadrato, il paraurti in tinta con la carrozzeria e la retrocamera. Passiamo ora al cassone, che ha una rifinitura ruvida, bella, ma anche funzionale. Di posto ce n'è. Misura infatti 152 x 152 cm. Ma se non avete abbastanza di tutto questo spazio, sapete che il Pick-up 8 può trainare fino a 2000 kg. Passiamo ora agli interni, che grazie a questa console, unita al tunnel centrale, dona un design molto dinamico e moderno. Anche qui troviamo un mix di materiali. La plancia è dominata da questo pattern molto carino. Troviamo poi la rifinitura nera e lucida e questa cornicia cromata, con al suo interno il sistema di infotainment, dotato di uno schermo touch da 10,4 pollici, personalizzabile ed equipaggiato con Android Auto, Apple CarPlay e la camera 360. Scendendo notiamo la rifinitura nera e lucida del tunnel centrale, sopra la quale sono inseriti il tasto del freno a mano e il selettore per gestire la trazione. La default 2WD prevede la trazione posteriore, la 4H indica la trazione integrale e infine la 4L, trazione integrale con marce ridotte. I sedilini ecopelle, molto belli e ben imbottiti, sono caratterizzati da questa cucitura rossa in risalto e sono riscaldabili. Anche le portiere sono ben imbottite. Troviamo lo stesso pattern presente sulla plancia, la parte del supporto maniglia con questa texture che ricorda le dune di un deserto e pure qui le cuciture rosse in risalto. Il computer di bordo è digitale e il volante presenta anche in questo caso un mix di materiali accompagnato da molti comandi. Troviamo infatti questa crumatura con il suo interno una griglia di colore nero lucido e le cuciture gialle. Infine troviamo anche qui il tettuccio elettrico. I colori disponibili per il PK8 sono 7, rosso, blu, nero, bianco, giallo, argento e grigio. Parlando di motori invece abbiamo un'unica soluzione, il 2000 Turbo Diesel da 136 CV e 320 Nm di coppia. Il Pick-Up DR ti aspetta nella nostra sede di San Zeno Naviglio. Vieni a darci un'occhiata. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo.